cari amici spero di incontrarvi numerosi domani pomeriggio a roma nel church village in via di torre rossa numero 94 nella sala la rambla al grande importante convegno internazionale che porta come titolo una celebre frase del cardinale caffarra chiesa cattolica dove vai e cardinale caffarra continuava solo un cieco può negare che nella chiesa ci sia grande confusione a questo grande convegno sarà presente parlerà il cardinal burke il cardinale americano il cardinale brand muller sua eccellenza monsignor atanasius schneider e altri importanti prelati della chiesa nonché uomini del mondo della cultura sia laici che non bene la confusione oggi nella chiesa è ormai evidente e la goccia che ha fatto traboccare il vaso ma non l'unico motivo di confusione sono state quelle noticelle nel capitolo settimo dell'esortazione apostolica moris letizia scritta di pugno di papa francesco ebbene qui non si tratta di continuare a menare il camper laia e dire non si può dire niente contro il papa non è vero semplicemente non è vero grandi grandissimi santi in italia santa caterina da siena hanno ripreso durissimamente i papi quando i papi sbagliavano non dimentichiamo che i papi possono sbagliare non sono infallibili se non quando parlano ex cattedra in materia di morale e di fede in ambiti quindi molto ben determinati e limitati e quando lo fanno impiegando tutto il proprio munus petrino non quando parlano per esempio sull'aereo o quando scrivono lettere private il problema è che questi errori con la gran cassa mediatica ostile alla chiesa ma soprattutto alla dottrina imperitura e salvifica della chiesa rischiano e ormai non è solo un rischio è una realtà di portare grandi debiazioni grandi confusione dentro la chiesa e pratiche scorrette come per esempio dare la comunione ai divorziati risposati che non c'è papa che tenga non si può fare pena l'inferno per chi lo fa dalla comunione come complice di peccato mortale e anche chi la riceve certo chi la riceve se lo riceve senza avere piena coscienza di quello che fa perché è stato imbrogliato da dei pastori malvagi e ottusi insomma dio avrà un occhio di pietà ma la dottrina cattolica su questo tema è assolutamente chiara e non modificabile chiesa cattolica dove vai dove stai andando con questa fregola di correre dietro alla mentalità mondana bene fede cultura che è la prima e l'unica casa editrice oggi che in italia ha riportato alto lo standardo della fede la dottrina cattolica imperitura e irreformabile con grande forza facendosi anche dei nemici sarà presente a questo grande convegno terremo anche un banco libri dove ribadiremo anche con i nostri libri la fedeltà alla dottrina cattolica salvifica e parteciperemo anche noi ad ascoltare quanto grandi cardinali che vestono di rosso che significa questo rosso la disponibilità a morire a versare il proprio sangue per amore alla chiesa per amore a gesù cristo non per amore di un rispetto mondano nei confronti del papa o della autorità statale morale mediatica del momento chi ci salva il nostro signore gesù cristo non è né il papa né la televisione né internet né niente di tutti questi e quindi la nostra fedeltà va solo a lui a lui nella sua dottrina che salva i temi della giornata saranno i seguenti ve li leggo adesso il cardinal burke parlerà dei limiti dell'autorità papale nella dottrina della chiesa signor schneider parlerà della sede apostolica di roma come cattedra veritatis la cattedra della verità il professor valerio gigliotti parlerà dei limiti alla plenitudo potestatis del papa nella storia del diritto e della chiesa poi ci sarà un saluto del cardinal zen che parlerà anche della chiesa oggi in cina ah ho dimenticato di leggere anche che parlerà anche il cardinal brandmüller sulla consultazione dei fedeli in materia di dottrina poi un breve intervento di marcello pera vi aspetto numerosi sarò felice di potervi incontrare e di poter scambiare qualche opinione e qualche parola di fede insieme a voi per rafforzarci nella battaglia nella buona battaglia grazie a tutti